Un debito contratto con esponenti della Camorra potrebbe essere questo secondo gli inquirenti il movente dell'omicidio del boss Vincenzo Mariniello, il 46enne ucciso Domenica da Cerra nel Napoletano, nei pressi della sua abitazione. Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Il boss si trovava da solo a bordo di una vettura nei pressi della sua abitazione in via Pietronenni quando è stato raggiunto dai sicari che gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco. Vincenzo era considerato a capo dell'omonimo gruppo criminale dopo la morte del padre Gennaro, ucciso il 24 marzo del 2049 anni con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra mentre era affacciato al balcone da un cecchino armato di fucile ed appostato sul terrazzo di un edificio disabitato.